hub library una biblioteca digitale multidisciplinare con migliaia di testi facile da consultare interessante da esplorare che cos'è una raccolta ragionata di testi arricchiti da introduzioni e note brani letterari e di critica fonti e documenti e contributi storiografici navigazione e ricerca ordine cronologico alfabetico linea del tempo tag tematici o ancora ricerca libera scegli tu come visualizzare e filtrare i testi linea del tempo percorri la linea del tempo per visualizzare gli sviluppi diacronici oppure per apprezzare la sincronicità di fenomeni e idee tag ogni testo è riccamente descritto attraverso tag di contenuto forma periodo con la funzione esplora attivi connessioni inaspettate che mettono in relazione autori fatti e epoche solo apparentemente distanti e infine download attraverso il pulsante dedicato è possibile scaricare i testi hub library è facile da raggiungere la trovi all'indirizzo library.hubscuola.it oppure inquadrando il qr code nei tuoi libri di testo